Il caso ormai è diventato nazionale. Roberto Saviale il 15 marzo presenterà a Forlì l'ultimo libro, L'apparanza dei bambini, e fin qui nulla di male. A suscitare le polemiche invece è stata una circolare diffusa agli studenti dell'Iceo Classico di Forlì-Morgani da parte del dirigente Marco Molinelli. È un'importante occasione per incontrare uno degli scrittori più famosi, si legge. L'adesione deve riguardare l'intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo. Entro il 18 gennaio le adesioni riguarderanno anche il liceo scientifico, dopodiché l'ufficio stampa di Saviano contatterà l'amministrazione comunale per reperire spazi idonei. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia ha già annunciato un'interrogazione al ministro dell'istruzione, attacca anche il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter. Saviano da parte sua ha replicato su Facebook, ora in rete circola la bufala sull'acquisto obbligatorio di copie del mio libro. Da dieci anni vado nelle scuole e i miei scritti mi fa piacere che vengano letti anche fotocopiati o in copie che passano di mano in mano. Anche il preside del liceo classico Morgani risponde alla polemica. Da anni come scuola organizziamo incontri con gli autori. Con Saviano la modalità è la stessa. Chi aderisce deve leggere il libro, che va acquistato anche perché, con l'acquisto, si riescono a coprire le spese di organizzazione e l'eventuale ospitalità dello scrittore. Agli studenti va assicurato il massimo sconto possibile per legge, due euro nel caso di Saviano, sui 18 del volume. Intanto si stanno già organizzando delle manifestazioni. Noi ci auguriamo una smentita da parte dell'Istituto nelle giornate di oggi e comunque immediatamente. Diversamente il 15 marzo la Lega, ovunque Saviano arriverà in territorio romagnolo, è pronta a manifestare al fuori degli istituti scolastici.